Vorrei già risposto millimila volte Ma com'è sta nuova tizia Drogon Scarsa, debole Diversa però Quindi quello per me è l'importante Mi sta piacendo Sto provando varie build in questo momento Io dico com'era ora il killer che Ma è abbastanza uguale È cambiato poco Gli hanno baffato un po' di cose Ma di quello sicuro Ah già che c'ho il pc Bello quel totem È bugato il drone raga Non mi piazza i droni Boys non mi piazza i droni Boys Ok mi ha perso il drone Perché ce n'è uno gigante C'è un quadrettone gigante boys Eh non volevo piazzare subito Non comprendo cos'è questo quadrettone gigante Sta succedendo qualcosa di strano Questa partita Ok va bene Peccato che mi ha stunnato Ah già non ho più inganno Mi è andato Vorrei fargli droppare Un pallet almeno Cioè fargli rompere un pallet Con la trappola Perfetto Il god pallet tra l'altro Ma li toglie tutti Se si rompono un pallet li toglie tutti Questo non lo sapevo Si è già curata tipo O forse sono solo scaduti Dovrebbe essere che siano solo scaduti anche The Dard Fuck Tra l'altro mi ha visto anche il totem Mi hanno fatto un gen in tutto questo Oh Ho sbagliato Ok Primo hook ce l'abbiamo Secondo me è più fan di molti Di molte altre scasse Esatto C'ha C'ha qualcosa di quel diverso No che dice Almeno fa qualcosa O almeno fa finta Questo mi ha rotto Ah l'Undyne mi ha rotto Certo Nice Madonna guarda quanto What the fuck Quanto cazzo è corso Uè zio Che velocità me lo dici Coglione Voleva fare la CJ tech A parte quel mori che diverso non è No il mori Sembra quello di Semplicemente di cosa Ok mi hanno tolto il pentimento Però ne abbiamo una traccata in questo momento Tra l'altro Eccolo qua Nice Oh guarda che Adesso che c'ho anche traccata Oddio c'ho tutti i traccati Aiuto Non capisco chi è cosa Brava Uh nice Invece no Col cazzo brava Si è preso l'Elle in faccia Cosa stanno facendo Aiuto Non capisco cosa sta succedendo Vabbè Anche qua va capito come kill Però un minimo di potenziale lo ha Non da Non da più C sì Secondo me C ci sta Ma sai che Non lo so Devo giocarlo un po' di più Per poterlo dare un senso Perché il nuovo surf Forse è quello che viene Donato Ah Non è quando raccogli Mi pare che fosse quando raccogli Quello Che è lo sprint burst Praticamente Mi sembra almeno Vi spiega drone Set up un attimo i miei droni Qua sui totem Perché È ovvio che Voglio tenere Tranquilli i miei totem Ok Dove saranno Si staranno curando Stanno facendo un gen Si sono curati qualcuno Ok Lì stanno facendo il gen Il signor ace E non solo L'hanno sciato Ok L'hanno salvato alla fine Che culo 4 stack Dai Non sembra Ma è complesso Da capire bene Poi il drone Il radar Per masserlo Ce ne vuole Si Sicuramente ci vuole Un po' di tempo Per capirlo bene Uh stanno facendo Il totem Nice Non era neanche Era Ma che cazzo era Scusa No mi sa che era Il devour Per forza O no Boh Punti romani Non lo so Ah no forse era Semplicemente un coso Perché il primo acceso Era quello lì in fondo Che lo stanno facendo Tra l'altro Oh se n'è andato Però E siamo a 5 It's more time It's more time Ha pensato di essere arrivato Oh passo dal pallet Che figo Ma l'hanno cambiato? No Guarda Quando viene sollevato Oh guarda Ci sono due droni Che lo stanno spottando Beh Posso dire che comunque Sto vincendo tutti i game Per ora Tutti 4 su 4 Tra l'altro Sprintino E anche te Sei morta Kate Sia Oh Sto scendo No Devo fare il mori Ok Sono riuscito a fare il mori Prima che distruggessi Oh Sono un cesso Cioè sono un cessino Sono spazzatura Sono letteralmente Uscito Dal cassetto Della spazzatura Ah 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 Oh Pura a moto Ah 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 Che ridere No Skin di Sadako Dal cestino No Quindi citti Parsi le tv Si tippa Nei cassettoni Beh È il suo posto Dovete stare Pensa attraverso le pareti Chi tirrebbe del cheater Ah 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 Grazie a tutti.